buonasera a tutti iniziamo subito con le vostre domande per lorenzo prima domanda è per messaggero veneto complimenti per il gol il tuo quarto gol e oggi personalmente della del gol ti ho visto molto grintoso anche in fase di recupero palla hai fatto una prestazione veramente a tutto tondo ti chiedo chiaramente un commento su questa vittoria ma soprattutto su come giocato in coppia con davis che è stata la grande novità di giornata anche se avete avevate già giocato qualche spezzone grazie sì sicuramente abbiamo fatto non solo io ma tutta la squadra una una partita di di grande sacrificio siamo riusciti a fare gol il primo tempo perché era importantissimo sbloccarla dopo dopo l'espulsione no giocando giocando con davis e magari è differente che giocare con florian tutti e due siamo due numeri nove occupiamo magari forse più l'aria e riusciamo magari ad avere magari più cross sono contento anche del gol di kinan perché è un ragazzo che lavora tanto si impegna e sono contento per lui perfetto se non ci sono domande noi vi ringraziamo ah ecco prenotatevi allora scusa 131 francesco reso dalla sardegna che caglieri ha incontrato vi aspettavate una partita del genere perché avete siete sembrati dominanti dal punto di vista fisico anche se non è stata ma era una partita molto spettacolare però forse avete anche sbagliato poco sì sicuramente il cagliari non c'è la squadra cagliari è è una squadra fastidiosa diciamo ci ha messo ci ha messo in difficoltà perché se non fosse arrivato il rosso forse avremmo faticato un po di più a sbloccare la partita e niente tutto qua prego messaggero veneto lorenzo ciao alberto bertolotto domanda inevitabile hanno avuto un impatto su di te le voci che ti accostano alla juventus e se sì quale no io no io devo pensare solamente a rimandere quei piedi per terra perché sono voci che che non mi fanno non mi fanno bene ripeto sono concentrato solo per l'udinese per aiutarla squadra a vincere e fare gol grazie a buon lavoro ciao grazie buonasera iniziamo subito con le domande per il mister prima domanda è per messaggero veneto mister buonasera alberto bertolotto del messaggero veneto un aggettivo per definire l'udinese io direi solida e concreta lei quali userebbe una partita fantastica questa sera io sono molto felice di vincere venerdì sera qui a casa senza subire gol di fronte ai nostri tifosi ottenere tre punti importanti cosa possiamo ancora dire è fantastico veramente delle belle sensazioni abbiamo lavorato molto per preparare questa partita devo dire che abbiamo mostrato un buon gioco abbiamo giocato in maniera intensa dal primo minuto abbiamo cercato i duelli li abbiamo anche vinti molti proprio all'inizio abbiamo fin dall'inizio abbiamo avuto un buono equilibrio per quanto riguarda il tenere il pallone gestirlo oppure lanci in avanti attaccare la profondità io ovviamente c'è stato l'episodio decisivo dell'espulsione ma devo dire che siamo rimasti molto attenti abbiamo agito in maniera conseguente dopo questo episodio decisivo Gazzetta dello Sport Ministro, con tutta la gente che parla di calcio tutto il giorno in Italia e in Europa perché Karstrom arriva ad un grande livello solamente adesso? non saprei dirlo non so perché si è arrivato solo adesso in Serie A già in Polonia giocava bene ha giocato per una squadra molto forte ha vinto il campionato con i Lech Poznań è un giocatore che mi piace molto perché non si tira indietro quando si tratta di affrontare duelli che aiuta molto la squadra si assume una grande responsabilità sulle proprie spalle per esempio contro Milan non era soddisfatto di come aveva giocato e voleva assolutamente migliorare e io penso che questa sera abbia giocato molto bene in maniera proattiva sempre pronto nella fase difensiva ha distribuito bene i palloni in fase offensiva è un giocatore che gioca bene a centrocampo e credo possa fare ancora meglio e sono sicuro che migliorerà Buongiorno in Friuli Mister buongiorno Sette giorni in Friuli Piero Micoli è soddisfatto dell'esperimento del doppio centravanti con Davis e Luca per la prima volta dal primo minuto insieme e pensa di proporlo anche in futuro grazie oggi abbiamo optato per questa soluzione sono soddisfatto della partita odierna entrambi i giocatori hanno fatto il proprio lavoro hanno difeso bene si sono anche completati sono simili ma hanno delle caratteristiche diverse entrambi hanno segnato sono molto contento per questo per entrambi i miei giocatori è un gol che ha grande significato per Davis in quanto è il primo gol della stagione ha giocato per 90 minuti e ha lavorato molto per riuscire a giocare 90 minuti sappiamo bene che Davis durante l'ultima stagione ha vissuto veramente una brutta stagione ma aveva già segnato la scorsa stagione un gol molto importante per l'udenese e oggi ha anche segnato un gol molto importante con il 2 a 0 ha diciamo chiuso la partita appunto grazie al suo gol la partita era decisa e sono molto contento per entrambi i miei giocatori per Luca e Davis lo si vede anche in allenamento che quando giocano insieme si completano bene e quindi ho più opzioni per quanto riguarda il reparto offensivo Sì, buonasera in parte ho già risposto alla domanda che avevo preparato su Davis che poi tutti dall'inizio del campionato dicono che non può giocare per 90 minuti oggi ha dimostrato che può farlo e anche benissimo invece ho una curiosità a centro campo oggi si è vista una cosa che forse è mancata nelle precedenti partite cioè una consapevolezza maggiore più calma più ragionamento quasi che appunto i giocatori da Paiero a Castro a Lovric sapessero già insomma come tenere la partita cioè li ho visti molto più consapevoli e con centro campo molto più che ragiona ecco questo è il frutto del lavoro o è una cosa proprio veramente voluta io credo che ancora presto per trarre una conclusione bisogna lavorare step by step in base anche a quello che vediamo in partita noi ci alleniamo appunto in base a come giochiamo e per noi appunto è molto importante per quanto riguarda lo staff degli allenatori oggi abbiamo giocato con tre giocatori al centro campo che hanno una grande esperienza che portano una grande esperienza in campo ognuno con il proprio modo di giocare a calcio è molto importante per noi Pagero non è la prima volta ha giocato una partita molto dinamica robusta ha si è guadagnato ha causato il secondo giallo del giocatore del Cagliari aveva anche guadagnato il calcio di rigore in Coppa Italia poi si era infortunato quindi si è preso un periodo di riposo giustamente è un giocatore importante Karlström è un giocatore che ha giocato a livello tattico in maniera molto disciplinata per quanto riguarda Lovric noi conosciamo le sue qualità corre molto è un giocatore proattivo io voglio che riesca però anche a segnare oggi ha avuto due importanti occasioni non ha ancora segnato in questa stagione ma gli manca ancora poco per segnare appunto il suo primo gol quindi rompere il ghiaccio e segnare appunto il primo gol stagione noi ce l'aspettiamo anche lui si aspetta di segnare che sia più pericoloso a livello di gol segnati è un giocatore che lavora molto per la squadra anche oggi ha svolto un buon lavoro perciò in generale devo dire che è stata una buona prestazione da parte della squadra Buonasera mister Francesco 131 molto rapidamente si aspettava una parità del genere dal Cagliari e quanto l'espulsione può avere inciso sull'andamento della gara grazie non so cosa vuol dire se aspettava questa prestazione da parte del Cagliari avevate preparato la gara in questo modo cioè la gara è andata come l'avevate pensata aspettandovi un Cagliari così che vi aspettava adesso adesso non so dire se il Cagliari l'aveva preparata l'aveva preparata stando più più basso noi abbiamo cercato fino all'inizio di essere di dominare il gioco abbiamo avuto fino all'inizio un buon equilibrio per quanto riguarda passaggi brevi di possesso palla passaggi lunghi attacco da profondità abbiamo dato lavoro da fare al Cagliari sappiamo che gioca uomo su uomo il Cagliari ma oggi non ci sono riusciti noi in prima fase della partita abbiamo abbiamo coinvolto molto occoglie è importante che appunto si giochi anche con il portiere ci siamo spostati molto negli spazi da occupare perciò abbiamo reso la vita difficile al Cagliari nonostante questo il Cagliari è arrivato qui in un buon movimento di forma ha fatto delle buone prestazioni nelle ultime settimane e oggi noi sicuramente non abbiamo sottovalutato il Cagliari noi ci siamo concentrati appunto per la preparazione della partita sulla nostra prestazione noi sappiamo bene che che il Cagliari non aveva ancora perso qui contro l'Udenese e io sono a livello di statistica ancora più contento che siamo riusciti a battere il Cagliari e a rimigliorare questa statistica qui in casa nostra penso che questo mostri che noi abbiamo giocato una partita molto solida e in certi momenti abbiamo fornito proprio una bella prestazione sicuramente vi sono elementi su cui dobbiamo migliorare nella seconda frazione di gioco avremmo dovuto mettere ancora più pressione al Cagliari in certe fasi ma come detto siamo in un processo di crescita sembra facile da casa in tv ma la storia è diversa sul campo non è così semplice per noi è ancora più importante il fatto che una squadra come l'Udinese sia riuscita appunto a battere una squadra diciamo del nostro livello appunto siamo riusciti a battere una squadra tra i stessi obiettivi il Cagliari inoltre abbiamo mantenuto le nostre priorità ovvero stabilità e sicurezza e giocare bene e ottenere dei punti importanti grazie a tutti